Morfeo, l'anima non vuole che lavoriamo, Morfeo, l'anima vuole che tu evolvi, per cui se prendi, se devi lavorare per capire qualcosa, devi lavorare. Mi si secca la cosa quando sento lavorare, questa è una bestemmia lavorare. La parola lavorare è pari a una parolaccia, cioè YouTube mi dovrebbe bloccare perché adesso ho detto una parolaccia che è lavorare, che è veramente una bestemmia, è come se stessimo bestemmiando contro il nostro Dio interiore. Per cui la tua anima non è che vuole che tu lavori, la tua anima vuole che tu evolvi e se nel tuo percorso evolutivo ti serve lavorare da schiavo, devi lavorare da schiavo. Se ti serve lavorare da schiavo per capire che poi devi fare qualcos'altro, ben venga. Se ti serve lavorare da schiavo per perdere tutto e poi finire sul corso di mentalità finanziaria di Daniele Penna che sta su YouTube a gratis, per capire che se stai lavorando da schiavo e perché non hai una mentalità finanziaria e hai delle credenze che non te lo permettono ancora, bene. Sul corso sulla mentalità finanziaria, quello che adesso trovate su YouTube, spiego questo, quel corso lì è stata la mia svolta, cioè io quando ho perso tutti i miei soldi più di una volta mi sono reso conto che c'erano degli schemi ripetitivi nella mia testa che mi permettevano di farli così come mi permettevano di perderli, quindi ero tanto capace a farli quanto ero capace a perderli. Due abilità che assieme non sono carine, soprattutto quando entrano una dietro l'altra. Poi dopo ancora ho scoperto, questo l'ho scoperto poco tempo fa, che una motivava l'altra, cioè io rifacevo un sacco di soldi dopo che le avevo persi, quindi dovevo perderli tutti per rifarli, perché il fatto di perderli tutti, quindi di ritornare alle stalle, mi dava la motivazione per rifarli. E' un casino, cioè è un loop da cui non uscivo, finché non l'ho capito e poi ho capito tante altre cose dietro questo loop. Ma soprattutto la cosa che mi frenava all'inizio, cioè il concetto del perderli veniva dal fatto che io avevo delle convinzioni dentro di me, infilate dai miei genitori, infilate, prese, non è che l'hanno fatta apposta, le prendi perché vivi in quell'ambiente. E in quell'ambiente determinate cose funzionavano e valevano in determinata maniera e io le ho prese così come erano, dai miei dei, perché i genitori sono i tuoi dei, quindi quello che fanno loro è uguale a quello che devi fare tu. E ho capito, però se c'hai determinati genitori che pure loro non sanno regolare la mentalità finanziaria, e fanno cazzate o comunque gestiscono i genitori in una certa maniera o che lavorano da schiavi tutta una vita, e tu quello sai fa, quello impari. Quindi a voglia che io voglio dimostrare di saper fare l'imprenditore, e l'ho pure fatto, cioè se ho pure riuscito, ho mosso dalla motivazione di dimostrare. Peccato che poi è entrato il sistema che non li sapevo gestire, perché nessuno me l'aveva insegnato, nessuno mi ha insegnato alla gestione del denaro, nessuno mi ha insegnato la mentalità finanziaria, nessuno mi ha insegnato a ragionare in rendita e non in scambio di lavoro. Quindi, quando ho compreso che c'era un gap, c'era una mancanza di informazioni dentro di me, ed è il motivo per cui ho fatto tutto questo casino, per cui li perdevo, allora mi sono messo a studiare, ho compreso, ho capito, ho trovato del materiale, lo troviamo in Kiyosaki, lo troviamo in T.R. Wecker, ma lo troviamo con i miei sviluppi aggiunti in questo corso su una mentalità finanziaria, che è il meglio di T.R. Wecker, che è il meglio di Kiyosaki, che è il meglio di Daniele Penna messi assieme, gratis, qui non vi dovete neanche andare a comprare libri o fare corsi di migliaia di euro. e da lì capite tante cose, da lì capite con dei test, con delle domande, con del materiale, con i vari pdf che vi scaricate, con tutto quello che vi faccio fare, lì capite le motivazioni per cui non riuscite a fare denaro. E come potete farlo? Ecco perché vi consiglio di farlo. E soprattutto dovete cominciare a switchare la vostra mente, non più a ragionare sul lavoro, ma sulla rendita. Quindi il tempo non deve essere occupato a che lavoro posso fare, come posso scambiare il mio tempo, ma è come posso creare una rendita. E una rendita non è che dovete ragionare una rendita di migliaia di euro, una rendita potrebbe essere, fosse anche di un euro al giorno, fosse anche di dieci euro al mese, è una rendita, è una. Rendita vuol dire che l'hai messa a reddito, punto, basta, poi ne fai un'altra. Intanto quelli arrivano. E come il discorso di scrivere un libro? Il libro teoricamente è una rendita, piccola, ma è lì. Eh, l'ho scritto cinque anni fa, ogni anno ti arriva un migliaio d'euro, due migliaia d'euro, ma lì, certo, non c'è campi. Però è una, non è che sto facendo chissà che per averla. L'ho fatto una volta, punto. Quella è una, poi ne fai un'altra, poi ne fai un'altra, poi ne fai un'altra, poi ne fai, c'è gente che scrive il libro ogni settimana. Ci sono alcuni trainer che tirano fuori i libri e corsi a non finire. I corsi sono anche quelli una rendita, li fai una volta, a meno che non li fai grazie, non li faccio io, li fai una volta, guadagni per sempre. Ricordati, la rendita è quella cosa che funziona basandosi sul principio che lavori una volta, guadagni per sempre. Lavori una volta, attenzione, per fare una rendita magari ci puoi mettere una settimana, un mese, un anno, dipende quanto sei capace. Ecco, lì dipende quanto vale il tuo tempo. Per cui, se tu devi fare un sito che devi mettere a rendita, perché lì ci metti un progetto sul web, e non sai fare niente su internet, perché sei soltanto capace di accenderlo e mettere i like su Facebook e spararti le pose nei selfie, lì devi partire da zero. Quindi una cosa che potresti fare magari in dieci giorni, proprio perché ti mancano le conoscenze, prima devi acquisire le conoscenze, devi dare maggiore valore a te stesso e al tuo tempo, e poi lo puoi fare. Ci vuoi più tempo. Oppure devi pagare a qualcuno. Devi pagare a qualcuno, già parti con un investimento a perdita e non è detto che poi ci riesce, che ti faccia un lavoro fatto bene. E poi sei sempre sotto scopa di questo qui, per cui se devi modificare qualcosa, devi andare dalla persona. Fai prima che te lo studi te e via. C'è il materiale. Se vuoi studiare, ce l'hai. Anaera è una delle fonti di queste, cioè il materiale un po' per tutto e ne faremo anche di altri.